Il presidente provinciale di Col Diretti, Vito Busillo, interviene sulla questione relativa alla ripresa delle attività in agricoltura. Una tematica centrale per la Piana del Sele, soprattutto in vista dell'estate, stagione in cui ancora più importante sarà l'arrivo di nuova manodopera. La situazione è evidentemente, stiamo in difficoltà, non possiamo sottacere, ma diciamo che nella Piana del Sele per adesso stiamo tenendo botta, diciamo in provincia di Salerno stiamo tenendo botta anche perché abbiamo in provincia di Salerno un'agricoltura tra le agricolture tecnologicamente più avanzate in Italia. Quindi c'è bisogno di meno manodopera, c'è bisogno di manodopera molto più qualificata e in verità si trovano anche molti italiani che hanno, come dire, intenzione di lavorare in agricoltura e che in effetti molti già lavorano. È evidente che quando arriveremo nel momento cluce della piena raccolta dei prodotti, immagino le pesche da qui a qualche giorno, immagino il problema che abbiamo avuto sulle fragole, immagino anche il problema che avremo sul pomodoro dell'industria, è evidente che è un grido d'allarme che mi sembra abbastanza fondato. Anche su questo noi abbiamo chiesto lo sblocco dei voucher per avere libertà di azione, perché certamente la maturazione del prodotto non aspetta i tempi e la burocrazia del nostro Paese.